La ragione per la quale Dio ti ha salvato è per adorare, ma Dio ti ha salvato perché tu lo adori, quindi il figlio di Dio, il suo primo lavoro per il Signore, il suo primo servizio per il Signore, è l'adorazione, non importa in che cosa ti trovi, Dio ti ha salvato perché lo adori, ti ha salvato, ti ha ancora lasciato su questa terra, perché in ogni situazione della tua vita tu lo adori, e quando vedo questo, dico eh Signore, quindi tu ogni tanto lasci certe cose succedermi perché tu vuoi che in questa situazione che io ti adoro, perché ogni volta che adoriamo il Signore, Satan diventa piccolo, ogni volta che adoriamo il Signore, la nostra fede si aumenta, ogni volta che adoriamo il Signore, experimentiamo la sua grandezza, ogni volta che adoriamo il Signore, ci sentiamo scaricati, ci sentiamo scaricati, ogni tanto hai come un peso addosso, pesa su di te, ma mettiti adorare il Signore, a benire il Signore, a benedire il Signore, a glorificare il Signore, a glorificare il Signore, tu vas voir come se qualcosa veni ad enlever il Signore, e dai come se un peso è uscito da te, ci sentiamo scaricato, perché l'adorazione è la ragione per la quale sei salvato, alleluia, 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 dai, l'adorazione di Dio, l'adorazione di Dio, porta a sperimentare il soprannaturale, a sperimentare l'extraordinario, e qu'est-ce che c'è l'adorazione di Dio? C'è questa faccia per noi, i cristiani, di contemplare Dio, di admirare Dio, di apprezzare Dio, di glorificare Dio, l'adorazione non è solo il canto, sono dei modi di apprezzare Dio, sono delle contemplazioni, l'apprezzazione di Dio, è il modo di ammirare Dio, è il nostro modo di scoprire la sua grandezza, di vedere l'incomparabile, lorsqu'on arriva in questa dimensione, Infine Dio, l'auberizzazione di Dio, l'apprezzazione di Dio, alleluia, alleluia, alleluia.